Sono le 19 in punto, quindi si può cominciare, comincia la finale, terzo quarto posto di DNB qui a Cervia, l'ultima gara della stagione, giù il gettone, è iniziata Legnano Latina. Per gli equilibri di squadra di coach Gigi Garelli, ora Arrigoni deve forzare da tre punti, manda a bersaglio la tripla Marco Arrigoni. Poi trova uno scarico per Navarini, molta pressione qua di Latina, Navarini prova con il runner in corsa dal centro dell'area. Non giocato con Castaniga, si prende pronto Tavernelli, poi si ribalta nell'altro angolo per Tommaso Milani che va a bersaglio con la seconda tripla. L'occasione della vita questa con la sua rimacchia Ferrari, la gestisce con il Tavernelli, la palla fuori per Maiocco, ha tanto spazio, grandissima extrapezza. Il capitano, dentro per Arrigoni, quattro punti consecutivi nell'ultimo minuto per Marco Arrigoni, sale a quota 20, ma quella giocata meravigliosa, tutta d'esperienza, è quella di capitano Federico Maiocco. La rimessa per Maiocco nelle mani Tavernelli che lancia assaggiamente il pallone in aria per far trascorrere i secondi, la prende Casagrande, suona la sirena, finisce qui. È il giorno più bello della storia per i Legliano Knights. L'Euro Promotion a sorpresa da underdog, da sottovalutata, stacca il biglietto per la Silver 2014-2015. Rindici!